Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Quest'oggi ragazzi sono qui a Costa Teghise ma prima di partire con il video volevo veramente ringraziare tutti voi di cuore per la diretta di ieri perché siete stati veramente in tanti a partecipare e un grazie immenso a tutte le persone che hanno fatto una piccola donazione che così aiutano il canale a crescere sempre di più. Prima però di lasciarvi con il video vi volevo ricordare ancora una volta nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto di cliccare sul pulsante iscriviti e attivate la campanella così da non perdervi nessuno dei nostri video ed in più vi ricordo che nelle impostazioni potete andare e selezionare la vostra lingua per i sottotitoli. Bene ragazzi come potete vedere la giornata è splendida e il mare ha dei colori veramente fantastici quindi vi lascio al video ma ci vediamo dopo. Grazie a tutti i nostri spettatori 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 Grazie a tutti i nostri spettatori